La vedi questa patina? La conosci molto bene. È la crema solare che si sospende in acqua. Ma ti sei mai chiesto che fine fa dopo che scivola via? Si dissolve magicamente nel mare? In questo video voglio raccontarti tutto sulle creme solari. Sicuramente non possiamo farne a meno, infatti tutti gli scienziati concordano che andrebbe messa tutto l'anno. Anche con le nuvole. Ma allora come possiamo fare per bilanciare la protezione della pelle da un lato e la protezione dell'ambiente dall'altro? È impossibile! Non proprio, ora lo vediamo. Prima però, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al nostro canale. Troverai altri video della serie Abbiamo sempre fatto così, in cui riflettiamo sull'impatto ambientale dei nostri gesti quotidiani. Per comprendere cosa succede dopo che entriamo in acqua con la crema solare, la prima cosa da fare è prendere un flacone e leggere l'etichetta. Tra le voci spesso infatti si nascondono due ingredienti. Ti dico, si nascondono perché è davvero difficile scovarli in alcuni casi. Sono termini complicati che certamente non utilizziamo nella nostra vita di tutti i giorni. Sto parlando dell'ossibenzone e dell'otilmetossicinamato. Una ricerca del 2019 condotta dalla NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, ha dimostrato che questi due composti, una volta dispersi nel mare, possono contribuire allo sbiancamento dei coralli. Cosa intendo per sbiancamento? In pratica i coralli hanno questi splendidi colori brillanti, ma con la contaminazione di queste sostanze chimiche si stressano e il loro colore inizia a sbiadirsi sempre di più. Ti spiego quello che succede. In pratica ogni corallo fa da casa, all'interno dei suoi tessuti, a delle microalghe unicellulari responsabili della fotosintesi. Le zooxantelle. Queste alghe vivono in simbiosi con i polipi, quei minuscoli animaletti che vivono attaccati gli uni agli altri. Perché sì, i coralli sono formati da tanti animaletti messi tutti insieme. Tu lo sapevi? Le alghe forniscono ai coralli energia, ossigeno e appunto colore. Quando il corallo si stressa a causa di agenti esterni che lo danneggiano, si rompe la simbiosi tra queste alghe e i polipi dei coralli. Quindi l'alga fa le valigie e abbandona il corallo, perché di conseguenza perde il colore fino poi a morire, dato che non ha più il suo fornitore di energia. E per questo si trasforma in un corallo bianco e calcareo. Pensa che questo sbiancamento sta mandando in crisi anche altre creature del mare. I coralli infatti vengono usati da alcuni pesci come rifugio per evitare le risse. Non sto scherzando, c'è proprio una ricerca a riguardo. I pesci di Indonesia, Filippine, Giappone e delle regioni indo-pacifiche insomma, hanno sempre usato i coralli come nascondiglio quando la situazione in giro si faceva troppo calda. Ebbene, dal 2016, anno in cui si è cominciato a monitorare questo fenomeno, ci si è accorti che i pesci hanno via via smesso di riconoscere i coralli sbiaditi come un buon nascondiglio. Per intenderci, se prima era il 27% dei pesci osservati ad avere questo comportamento, alla fine della ricerca e del processo di sbiancamento era appena il 10%. Questo ovviamente comporta un maggiore stress per i pesci, minacciando già il sottile equilibrio di questi ecosistemi. Ma non pensare che le creme solari abbiano un impatto solo sui mari esotici ricche di barriere coralline. Hai mai sentito parlare delle posidonie? Sono le nostre foreste dei mari, fondamentali perché fanno da casa a tantissime specie e perché servono ad assorbire anidride carbonica presente nell'atmosfera, donando in cambio ossigeno. C'è uno studio pubblicato sul Marine Pollution Bulletin sugli effetti di queste sostanze chimiche nei confronti della posidonia. È ancora in fase di sviluppo, ma è probabile che queste sostanze ne altereranno le funzioni in futuro. A ciò aggiungi che il mar Mediterraneo ha una conformazione semi-chiusa e con poco ricircolo di acqua e che quindi le sostanze inquinanti ristagnano raggiungendo livelli di concentrazione elevati rispetto agli oceani. Un fatto che mi ha scioccata è che molti pesci stanno subendo delle mutazioni genetiche, tanto da avere problemi di infertilità e di riproduzione. E lo stesso vale per i ricci di mare, per le cozze, per i delfini. Per i motivi che ti sto dicendo, le Hawaii hanno già bandito le creme solari che contengono l'ossibenzone e l'octinozzate. Ed è probabile che altri paesi degli ecosistemi più a rischio seguano questo loro esempio. Ma quindi noi che possiamo fare? Iniziare a usare meno crema? Certo che no. Non scherzavo affatto quando dicevo che andrebbe messa tutto l'anno. La crema infatti è fondamentale per prevenire i tumori della pelle, come il melanoma, e l'invecchiamento precoce della pelle, effetti causati proprio dall'esposizione raggio V, che ci sono tutto l'anno, anche quando ci sono le nuvole. Quello che possiamo fare però è scegliere delle creme solari che non contengano queste sostanze dannose per l'ambiente marino, resistenti all'acqua e con ingredienti biodegradabili, così si decompongono naturalmente nell'ambiente senza rilasciare residui nocivi. Poi, meglio la crema dello spray, dato che quest'ultimo si disperde facilmente nell'aria e sulla sabbia, finendo prima in mare. Scegli un pack di plastica riciclata o addirittura una crema solare solida. Infine, come un vero e proprio surfista, puoi optare per delle maglie protettive UV e non esporti al sole diretto tra le 10 e le 14. Oltre questi trucchetti possiamo stare più attenti a leggere le etichette per cercare le creme solari amiche dell'ambiente. Se hai difficoltà a leggere gli ingredienti, puoi aiutarti cercando info su app dedicate alla composizione di cosmetici oppure cercando info sul sito della Casa Cosmetica. È importante iniziare a farlo dal momento che riversiamo nel mare circa 14.000 tonnellate di crema solare, sia quando ci tuffiamo, sia quando facciamo la doccia. Bene, spero che anche oggi con questo video ti abbiamo fatto riflettere e che ti sia stato utile per avere più consapevolezza sui gesti da evitare per proteggere l'ambiente e la salute di tutti noi. Ci vediamo nel prossimo video o al mare. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti